Con l'aumento del costo della vita, si attende l'indice ISTAT di rivalutazione che sarà seguito dal decreto ministeriale e, di conseguenza, si avrà l'aumento delle pensioni. Questo incremento, tuttavia, non sarà applicato in maniera uniforme a tutti i pensionati. Anche nel 2024, infatti, verranno applicate diverse fasce e un possibile decalage, ovvero una riduzione. A gennaio, i pensionati con un reddito imponibile mensile fino a 4 volte il minimo, quindi, fino a 2.272 euro, riceveranno un aumento pari al 100% del tasso di rivalutazione. Per le pensioni che vanno da 4 a 5 volte il minimo, ossia fino a 2.800 euro, il tasso sarà riconosciuto al 85%. Per chi guadagna tra 5 e 6 volte il minimo, la rivalutazione sarà del 53%, mentre per chi supera questa soglia fino ad 8 volte il minimo, il tasso scenderà al 37%. Le pensioni tra 8 e 10 volte il minimo avranno una rivalutazione del 32%, e per le cosiddette pensioni d'oro, oltre 10 volte il minimo, quindi sopra i 5.618 euro mensili, la rivalutazione sarà ridotta al 22%. Al momento non possiamo conoscere con certezza il tasso di rivalutazione per il 2024. Questa informazione sarà ufficializzata con il decreto ministeriale, atteso in poche ore o al massimo giorni, entro il 20 novembre. Tuttavia, l'Inps ha già ricevuto indicazioni provvisorie, che segnalano una possibile rivalutazione del 5,4%. Questo dato emerge da una comunicazione via mail e da una verifica effettuata sul portale Inps, dove è visibile l'importo lordo previsionale per gennaio 2024. Solo il decreto però potrà confermare ufficialmente tale tasso, che potrebbe variare di qualche decimale. Inps, dove è riportato i margini, att grades.